Nicola Alberani è volato negli Stati Uniti, il dirigente dei Bianco Verdi, da oggi a Portsmouth per il Portsmouth Invitational Tournament. L'evento si svolge annualmente dal 1953 ed è una vetrina per i giovani talenti usciti dall'ultimo anno del college. Per gli addetti ai lavori internazionali un appuntamento fisso, non solo e non tanto per scautizzare nuovi prospetti, ma soprattutto per stringere relazioni, parlare con agenti, dirigenti e giocatori. Un lavoro utile per portarsi avanti con il prossimo mercato. Alberani è negli Stati Uniti non soltanto per cultura personale, ma anche come ambasciatore di Casa Sidigas. Il contratto parla chiaro, il dirigente ha un accordo con gli Irpini fino al 2021. Certo, alcune società si stanno riorganizzando e guardano con interesse al futuro del DS di Casa Vellino, che intanto continua a lavorare per i Bianco Verdi. Per la verità, ad Alberani il patrono De Cesare avrebbe già dato mandato di iniziare a lavorare per la prossima stagione. Vedremo se sarà realmente così o è solo una frase di circostanza. Questo viaggio negli Stati Uniti potrebbe iniziare a distendere i rapporti tra DS e proprietà.